ragazzi bentornati finalmente nella rubrica in cui vi mostro i video del web che hanno avuto la capacità di spaventare molti spettatori se credete di essere coraggiosi abbastanza buona visione lo youtuber hassan barbar esplora spesso edifici abbandonati e questa non sarebbe la prima volta che riprende qualcosa di strano è sempre alla ricerca di qualcosa di paranormale nelle sue esplorazioni e direi che è riuscito a trovarlo il video inizia con lui che entra in questo edificio abbandonato e malmesso subito urla per assicurarsi che nessuno sia lì dentro con lui e non riceve risposta cautamente inizia a salire le scale piano dopo piano fino ad arrivare all'ultimo si ritrova in uno spazio aperto grande abbastanza da poter essere una sorta di teatro o una vecchia sala da ballo il pavimento però è chiaramente inconcluso e pericolante diventa difficile quindi attraversare l'area ma facendo attenzione lo youtuber continua ad esplorare improvvisamente sente un forte rumore a quel punto decide di voltarsi e ritornare verso l'entrata ma nota subito qualcosa di strano e inquietante in uno dei buchi nel pavimento una figura incappucciata che guarda verso la videocamera per un attimo e poi svanisce il ragazzo si avvicina cercando di capire chi o cosa fosse ma sembra che la figura sia totalmente scomparsa purtroppo non capisco ciò che dice quindi se qualcuno che conosce la lingua ritiene ci sia qualcosa di importante da sapere può informarci nei commenti ma comunque la cosa strana di questo video è che se si fosse trattato di un senza tetto o comunque una persona in carne ed ossa non sarebbe potuta sparire così il ragazzo avrebbe almeno trovato qualche cosa che provasse la sua presenza alcuni nei commenti ritengono che si tratti di un fantasma una figura paranormale ma mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione gli ospedali non sono mai un bel posto da visitare molto spesso anche se non siamo pazienti si può proprio percepire un'atmosfera pesante e talvolta inquietante tantissime persone hanno paura di trovarsi da sole in uno di questi edifici e non è difficile capire il perché questo video pubblicato su reddit nel maggio 2022 mostra proprio questa paura diventare realtà il ragazzo sta girovagando da solo per un ospedale in una zona buia e a dir poco inquietante sembra non esserci niente di particolare ma a un certo punto nel corridoio una figura sembra sporgersi da una stanza per poi tornare al suo interno come se niente fosse il ragazzo che riprende sembra accorgersene dopo un po' e non credendo ai suoi occhi torna indietro a riprendere di nuovo quel corridoio non c'è più niente ovviamente ma non è il coraggio di andare a controllare e sinceramente lo capisco probabilmente avrà pensato che fosse una di quelle ombre che si vedono con la coda dell'occhio frutto solo del nostro cervello ma riguardando il video si è sicuramente reso conto che non era affatto così ad oggi non ci sono molte informazioni riguardo questa clip e nessuno è ancora riuscito a capire se si trattasse di una persona o di qualcosa di più spaventoso a me non sembra una persona ma al tempo stesso faccio anche fatica a credere che si tratti di un'entità paranormale fatemi sapere anche le vostre supposizioni all'inizio del 2022 l'utente di reddit Genuine Intrigue ha pubblicato un video davvero strano da quel momento le riprese sono state oggetto di vari dibattiti e ipotesi gli utenti erano tutti interessati e lo sono ancora e hanno cercato in tanti di dare una spiegazione a ciò che è stato catturato si tratta delle riprese delle videocamere di sorveglianza del giardino dell'utente guardate appare la forma di una strana figura non ben definita che attraversa il giardino gli utenti nei commenti sono d'accordo nel dire che si tratta di un fantasma o comunque una figura di natura paranormale effettivamente non si può dire si tratti di una persona perché sebbene la qualità della videocamera sia scarsa una persona in carne ed ossa sarebbe almeno apparsa con delle forme dei contorni o qualche caratteristica ad oggi il dibattito su questo video continua qualcuno pensa si tratti di un fake mentre altri sono convinti sia una reale ripresa paranormale e voi da che parte state? i video che state per vedere sono stati pubblicati da James Fodder su TikTok il ragazzo ha recentemente comprato questa bambola in un negozio dell'usato non so che problemi abbia apparentemente il valore della bambola è molto più alto rispetto al prezzo a cui gli è stata venduta e questo ha inciso sulla scelta malsana di portarsi a casa questo abominio ok la smetto da quando l'ha portata a casa sono iniziate ad accadere cose strane strani rumori durante la notte e porte che si aprono e chiudono da sole sono solo alcune delle cose che sono capitate a James vi ricorda qualcosa? però questa volta come prova abbiamo dei video agghiaccianti James sospetta che la bambola possa essere infestata e quindi sia la causa di questi strani avvenimenti per questo decide di registrare la bambola in una stanza vuota inizialmente non accade nulla di strano ma poi, una notte, inizia ad accadere una cosa davvero particolare tenete in conto che la videocamera usata da James è una di quelle che rileva i movimenti e sposta l'inquadratura sul soggetto in movimento in pratica se qualcosa si muove lei si gira e lo riprende ecco una dimostrazione pratica pochissimi giorni fa la videocamera si è comportata esattamente così muovendosi come se stesse captando dei movimenti da qualche parte preparatevi la videocamera James crede che la videocamera stesse rilevando i movimenti di una presenza invisibile ma è anche possibile che stesse semplicemente funzionando male il video però lascia un senso di suspense incredibile facendo aumentare l'ansia gradualmente e facendo credere a chi lo guarda che la bambola si sarebbe mossa improvvisamente non è successo ma siamo solo all'inizio anche se un malfunzionamento della camera è molto plausibile solo due notti dopo accade una cosa davvero inquietante che fa credere a James che la videocamera funzioni benissimo era via di casa al momento della registrazione e nella descrizione del video scrisse semplicemente wow ho lasciato gli armadi aperti nel caso qualcuno credesse che mi stessi nascondendo lì dentro non so nemmeno cosa dire non so nemmeno cosa dire dal bagno spunta una strana e piccola figura nera che sfreccia attraverso il corridoio per poi sparire subito le persone hanno iniziato a pensare che si trattasse di un gatto ma James non ne ha uno ed è convinto che la figura sia collegata alla bambola da questo momento ha continuato a registrare tutte le notti e alla fine la camera ha catturato qualcosa di molto più spaventoso di questo James stava dormendo nella sua stanza al piano di sopra quando accadde questo a a a a a a a a Grazie a tutti. Quello che c'eravamo tutti immaginati nel primo video, alla fine, è accaduto. La bambola si muove improvvisamente da sola. A questo punto James inizia ad essere davvero spaventato e posta il video online per cercare qualcuno che spieghi questi strani fenomeni. È davvero probabile che continuerà a pubblicare aggiornamenti riguardo a questa bambola, quindi non vedo l'ora di vedere come si evolverà la situazione. In ogni caso sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate, dato che ho trovato questi video davvero ansiogeni e spaventosi. Ecco ragazzi, questi erano i video più spaventosi che sono riuscito a trovare. Spero che queste immagini vi abbiano provocato almeno un brivido lungo la schiena. Ma io adesso come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Grazie.